In questi incontri parleremo della storia della moda in Italia, così come si viene a sviluppare nell'arco dell'ultimo secolo, del Novecento. La moda italiana, a detta della gran parte degli studiosi del settore, nasce all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, perché è all'indomani della Seconda Guerra Mondiale che la nostra moda riceve la sua consacrazione a livello internazionale. Però mi piaceva in questi incontri di fare un po' un racconto più ampio e di vedere come appunto si viene ad affermare questa moda italiana nel Secondo Dopoguerra. Prima con i momenti poi passati alla storia, non so, come la Hollywood sul temere, gli anni della Sala Bianca, fino ad arrivare al Made in Italy, quindi il passaggio dall'alta moda e dalla moda boutique al pret-à-porter, alla grande industrializzazione della moda italiana che risale alla fine degli anni 70 e inizio anni 80 con nomi come, non so, Versace, Armani, Crizia, Missoni, eccetera, fino ad arrivare alla globalizzazione che caratterizza i nostri giorni. Inferno. Grazie a tutti.